buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale nel video di oggi andiamo a vedere che cos'è piratera che è un videogioco play to earn nft ovviamente gira su blog scene creato da kralo studio il gioco in questione è già completamente funzionante e si può giocare sia tramite dispositivi mobili android o ios o tramite applicazione web browser come dice il titolo stesso è un gioco che va a richiamare le avventure dei pirati con un sistema di combattimento a turni dove dobbiamo andare a formare il nostro equipaggio tramite degli nft e andare a sconfiggere gli altri giocatori oppure l'intelligenza artificiale del computer prima di cominciare questa panoramica questa recensione vi voglio fare le solite raccomandazioni perché come ben sapete pur essendo un videogioco all'interno ha un economia in token ma legata al mondo reale ovvero per poter giocare bisogna acquistare degli nft nft che vanno a rappresentare i personaggi del gioco quindi dobbiamo andare a formare la nostra squadra il nostro team e a seconda delle caratteristiche delle nft i personaggi avranno dei costi diversi e per acquistare questi personaggi bisogna acquistare il token attivo del gioco e per acquistare tutto ciò bisogna sborsare dei soldi nostri e ogni qualvolta dobbiamo mettere mano al portafoglio che sia l'acquisto di una cripto valuta per un eventuale investimento che sia l'acquisto di un nft da collezione un nft per giocare o il token utility di un videogioco bisogna sempre valutare i rischi rendimento oltre ciò sapere benissimo che cosa si può andare incontro i rischi più grossi che incorriamo andando ad utilizzare un videogioco play to earn quali sono il rischio che all'interno del team ci sia un membro fraudolento che quindi a un certo punto prende e scappa col malloppo il rischio che ci sia una scam proprio organizzata dietro il videogioco stesso e se per fortuna non si averà tutto ciò c'è sempre il rischio che durante il corso del tempo i giocatori smettono di giocare al videogioco non entrano più nuovi giocatori l'economia del gioco così facendo va a collassare e non sa più la possibilità di andare eventualmente a ricevere le ricompense in game a questo è il pericolo minore ma soprattutto se abbiamo delle grandi quantità di token c'è il rischio che non si riescano più a suappare per un altro token oppure direttamente con euro all'interno dei decks o eventuali checks detto questo non voglio mettervi paura per quanto riguarda questo gioco o per i futuri giochi ma voglio solamente mettevi in guardia di tutte le possibilità che ci sono sia di guadagno ma soprattutto anche di perdita è una volta che avete ben chiaro tutta la situazione potete prendere le decisioni del caso con le vostre strategie annesse ma adesso andiamo a vedere che cos'è questo gioco play to earn partiamo stavolta per quanto riguarda le community allora su telegram contano 55.254 membri nel momento in cui sto registrando questo video sul profilo twitter contano oltre 73 mila follower 22 mila 541 membri nel loro canale discord come detto in apertura è un videogioco che gira sulla baina smart chain quindi per poter giocare interagire col videogioco l'acquisto degli nft bisogna avere un wallet non custodial come ad esempio il classico metamask settato sulla baina smart chain vi lascerò comunque a fine di questo contenuto la guida a metamask per listettaggio della rete baina smart chain e di tutte le altre reti inoltre bisogna avere all'interno di metamask una porzione di bnb che servirà sia per il pagamento delle fide al network ma soprattutto anche per andare a scambiare bnb con il token nativo del videogioco che si va a scambiare su pancake swap il token in questione e il token pira il gioco in questione è una sorta di metaverse in puro stile piratesco dove tramite la nostra imbarcazione andiamo a esplorare questo mondo aperto e ci troveremo ad affrontare delle battaglie battaglie contro l'intelligenza artificiale del computer oppure contro altri giocatori per poter giocare bisogna acquistare almeno un personaggio dell'equipaggio tenendo conto che si possono avere fino a cinque personaggi nel proprio equipaggio ogni personaggio a caratteristiche ben diverse a delle statistiche ben diverse dei compiti diversi ed è un gioco di combattimento a turno quindi a seconda dei nostri personaggi dalla forza della nostra squadra della strategia che abbiamo in game possiamo sconfiggere oppure perdere contro i nostri avversari e ovviamente ogni volta che andiamo a vincere una partita a superare delle missioni giornalieri o degli eventi andiamo a guadagnare il token del gioco il token in game che andremo a guadagnare non sarà il token pira ma sarà il token beri il token beri non è collegata alla blog cene è un token in game che poi può essere scambiato una volta che abbiamo delle quantità o che decidiamo di volerlo scambiare con il token pira che il token utility e il token governance e del token collegata alla blog cene che ha poi un valore economico il token pira del token principale quello che in realtà poi interessano in termini di monetizzazione ha una supply massima circolante di un miliardo di token con un sistema deflazionistico dove il team è trimestralmente andrà a bruciare il 15 per cento dei token fino ad arrivare ad avere una supply massima circolante di 500 milioni come abbiamo visto è un token utility eletto che il principale che ci permette di acquistare gli nft del gioco e il token che ci permetterà poi di scambiarlo per un altro token esterno al gioco e token che servirà per lo steghi e per il farming per andare a guadagnare le nostre ricompense ed è scambiabile in entrambi i lati tramite pira e beri o da beri a pira vi ricordo che beri è il token e che andremo a guadagnare come ricompensa all'interno del gioco e non è un token su block chain ma può essere scambiato in pira tranquillamente come ho detto poco fa per poter giocare è necessario almeno avere un personaggio dell'equipaggio tenete presente che ci possono avere massimo cinque personaggi nel proprio equipaggio per poter ottenere questi personaggi si hanno due strade la prima è acquistare un poster casale la prima è l'acquisto di un poster il poster dei ricercati come vedete in sovraimpressione a dei costi differenti l'acquisto di un poster permette la generazione casuale di un personaggio nelle effetti che ci verrà assegnato un'altra via è quella di collegarsi al marketplace e andare acquistare i personaggi o il personaggio che più ci piacciono secondo le caratteristiche necessaria fermare il nostro eventuale team e ovviamente anche in base al costo delle nft ogni personaggio ha una rarità diversa ha delle caratteristiche diverse e in base alla nostra strategia può essere posizionato sulla scracchiera del gioco perché vi ricordo che è un gioco di combattimento a turni dove personaggi sono posizionati come se fossero su una scacchiera e dove noi possiamo posizionare la linea d'attacco la linea di difesa in base alle caratteristiche dei nostri giocatori e in base alle nostre caratteristiche di gioco è una volta formato il nostro equipaggio possiamo lanciarci all'avventura inizialmente per l'appunto proprio nella modalità avventura ci sono due modalità l'island adventure la sia adventure l'island venture ovviamente è un'avventura che si svolge sopra di un'isola dove la nostra missione principale sarà conquistare l'isola stessa combattendo nemici o sconfiggendo i boss per quanto riguarda l'avventura in mare il nostro equipaggio si batterà girovagando per i mari contro mosti marini contro alte frotte dove sarà possibile durante lo scontro bellico in mare con altri pirati andare a derubare anche le risorse dell'avversario per quanto riguarda gli attacchi e le caratteristiche dei singoli personaggi vi invito ad andare a leggere il white paper che vi servirà anche per andare ad approfondire le meccaniche inerente al gioco per quanto riguarda la token omics del token pira vediamo che il team ha un 12 per cento di allocazione del token con un vesti di sei mesi e trascorsi questi sei mesi il token gli verrà rilasciato gradualmente nei 40 mesi successivi gli advisor hanno un blocco iniziale di sei mesi che poi verranno rilasciate linearmente nei 24 mesi successivi e partnership strategiche hanno un veste in di tre mesi e successivi 15 mesi per poter entrare in possesso dei loro token anche chi ha partecipato alla private se la public sale a delle tempistiche ben precise per poter entrare realmente in possesso dei propri token i personaggi nft potranno essere potenziati in game e anche la nostra nave avrà un ruolo molto importante all'interno del gioco perché a seconda della qualità delle caratteristiche della nave i nostri giocatori i nostri equipaggi avranno delle resistenze in più avranno degli attributi potenziati bene siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro consueto appuntamento e come sempre spero che il video vi sia piaciuto l'abbiate trovato utile vi ringrazio come sempre per il vostro tempo e per il vostro supporto e ci vediamo presto ciao a tutti